Per questo Natale 2012 e per l'inizio del 2013 facciamo tantissimi auguri a nome di tutto lo staff di Viaggio nella Terra di Mezzo, a tutti i viaggiatori della Terra di Mezzo e coloro i quali viaggiano in nome della Terra di Mezzo per il mondo. Tantissimi auguri per un 2013 pieno di cultura, pieno di legalità, pieno di progetti e pieno di serenità e fortuna.